Oggi ci troviamo qui perché fra pochi giorni partirà quella che è la nostra seconda edizione. Dopo l'edizione del 2012 che ha registrato un grandissimo successo portando la manifestazione di essere scritta nel calendario degli eventi internazionali che si tengono in Italia, oggi abbiamo il nostro secondo passo registrando un aumento del più 25% degli espositori e registrando all'interno degli espositori un grande entusiasmo a questa manifestazione perché proprio l'autotrasporto è una delle attività che movimenta le merci in Italia e per questo è importante mettere una vetrina dove l'autotrasportatore che nel suo lavoro certosì del quotidiano di tutti i giorni possa essere rappresentato. Siamo l'unica manifestazione in Italia dedicata esclusivamente al trasporto e all'autotrasporto e ospiteremo qui a Caserta tantissimi operatori di settore provenienti da tutta Italia e non solo. La manifestazione sarà presente in una quattro giorni, partiremo il giovedì e finiremo la domenica. Ci sarà un grande momento dedicato al lavoro, al workshop, ad incontri e a momenti molto commerciali tra il giovedì, il venerdì e il sabato. Poi abbiamo deciso di dedicare una parte della fiera a momenti più ludici, quindi un po' più di ricreazione, creando una vera e propria festa del camionista denominata Traspo Day Show, dove a Capua e a Caserta arriveranno veicoli provenienti da tutta Italia, veicoli decorati, veicoli di altissima serie. E poi, visto che l'8 marzo corrisponde con quella che è la festa della donna, abbiamo deciso di dedicare un momento fondamentale all'imprenditoria femminile nell'autotrasporto, ospitando grosse imprenditrici che dell'autotrasporto hanno fatto il loro lavoro quotidiano. Infatti, proprio negli ultimi dieci anni abbiamo registrato nel settore un aumento del più 25% dell'imprenditoria femminile rispetto. Quindi il camionista che era visto come il bulbero uomo, oggi invece ci sono anche tante belle signore che fanno il nostro lavoro.